...e parlano di un unico figlio di Dio che, allontanandosi da suo padre, avrebbe dimenticato la sua divinità. Grazie. Questo è un argomento fondamentale per tutto il discorso sulla cospirazione che ne deschiava il mondo. E quando lui ha cominciato, come diceva, un anno fa, non aveva idea di dove sarebbe andato a parare. E in Inghilterra si dice, segui la strada che ti porta l'altrana del coniglio. E quindi nel tempo, mettendo tutti i pezzi insieme, si è accorto che un pezzo l'aveva portato a quello successivo. E fino ad oggi ha visitato 55 paesi che avevo occupato nella sua ricerca. E a un certo punto è diventato chiaro che per riuscire a capire che cosa sta accadendo e che cosa c'è dietro, era necessario approfondire un enorme numero di argomenti. E ho andato a rivedere tutta la storia dei grandi episodi di manipolazione, della guerra, degli scandali, del ribellio, delle rivoluzioni, della storia di quello che stava accadendo ed è quello che Franco è oggi. E si è reso conto che piano piano stava scivolando sempre più in profondità dentro la tana del coniglio. E questo suo viaggio dentro la tana del coniglio continua, arriva a profondità sempre maggiore, il coniglio non l'ho ancora trovato. E diciamo che fino ad oggi il punto di comprensione più importante che gli ha chiarito molto il quadro di insieme riguardo a quanto sta accadendo oggi è stato fatto proprio approfondire temi come la natura di ciò che siamo, chi siamo e cosa siamo. Nella nostra forma infinita siamo coscienza e consapevolezza. E se prendiamo i racconti di quelli che hanno avuto esperienze di pre-morte parlano esattamente di questo. Lui ha letto tantissime storie, tantissimi racconti fatti da persone che sono passate attraverso queste esperienze. E i temi in comune tra tutte queste persone sono davvero straordinari. E uno degli elementi in comune è proprio questa sensazione di una coscienza enormemente espansa nel momento in cui ci si avvantano il proprio corpo. e può esperienze di livelli multipli di consapevolezza e livelli multipli di esperienza in modalità che erano assolutamente impensabili durante il soggiorno dentro quello che noi chiamiamo il corpo fisico. è successo una cosa interessante circa tre anni fa, era nel bagno e nella mente sono comparsa una serie di immagini. E tutto è cominciato con una sensazione di energia fluttuante che secondo lui comunque è un'immagine simbolica che c'è questo altre volte ciò che è la coscienza. E poi in questo campo di energia di coscienza è apparso un occhio e da questo occhio poi è arrivato un telescopio e dall'altra parte del telescopio è comparso il mondo così come lo vedo ogni giorno. e alla fine il telescopio si è trasformato in un corpo umano. E questo corpo non è altro che un veicolo che ci consente di sperimentare una gamma di frequenze che noi chiamiamo questo mondo, il mondo che vediamo. Perché quando ci guardiamo intorno riteniamo di essere in grado di poter vedere tutto ciò che istintivamente possiamo percepire in questo spazio che ci circonda. Ma di fatto ciò che noi possiamo vedere è una gamma di frequenze che ricade a ciò che viene definito la luce visibile. e che noi riusciamo a decodificare attraverso il nostro corpo. E quindi tutto questo fa sì che quello che noi chiamiamo mondo non sia altro che una stazione televisiva olografica. quindi se noi prendiamo la versione analogica della televisione, quindi la versione in frequenza della televisione e delle stazioni radio. o delle stazioni radio. e quindi quando noi attraversiamo e siamo parte di questa gamma di frequenze olografica esistono anche altre dimensioni, altre frequenze, altri sistemi che sono contemporaneamente presenti in questo spazio che ci circonda. e allora la consapevolezza, la coscienza ci permettono di sperimentare questi mondi e di interagire con loro. ma come pura coscienza noi non siamo in grado di fare questa esperienza perché la risonanza e la frequenza della coscienza da una parte e del mondo che noi vogliamo sperimentare dall'altra si trovano a una distanza enorme. io non potrei mai tenere in mano questo microfono se fossi pura coscienza ho bisogno di un guscio di un veicolo esterno che abbia la stessa frequenza di questa materia per poterci interagire. quindi nei suoi libri e nei suoi eventi come quello di sabato lui tende a sottolineare questo aspetto. la differenza che c'è tra ciò che viene chiamato il corpo mente che è il punto nel quale noi siamo capaci di interagire con la realtà e la coscienza invece che è quella che ci attraversa e attraverso il veicolo è in grado di fare quell'esperienza. in un mondo ideale avremo bisogno di tutte e due queste dimensioni per poterci fare un'idea e renderci conto di quello che effettivamente sta accadendo. e quindi in realtà noi disponiamo sia del corpo mente anche quello attraverso il quale interagiamo con la realtà e abbiamo anche il livello della coscienza che è quello che ci da un livello molto più alto di consapevolezza che ci consente di avere una visione di insieme più ampia di quello che accade. quindi per usare un termine biblico fisicamente noi ci troviamo in questo mondo ma non siamo di questo mondo rispetto al punto di vista del quale riusciamo ad osservarlo. e approfondendo la visita della tana del coniglio non si è reso conto che la radice della schiavitù umana è la disconnessione del corpo mente dalla consapevolezza e quindi da un più alto livello di influenza sulla nostra capacità di leggere gli eventi. e quindi a questo punto noi ci ritroviamo come essere del mondo e nel mondo allo stesso tempo e questo fenomeno è un fenomeno di importanza fondamentale per il controllo delle masse perché è impossibile sottoporre al controllo delle masse quel tipo di consapevolezza mentre invece quella piccola consapevolezza laggiù è facilissima da controllare non ci vuole niente. e quindi siamo sinceri se guardiamo quello che accade oggi e anche quello che è accaduto nella storia del mondo quella consapevolezza vicina laggiù è quella che ci ha caratterizzato nella maggior parte dei casi. quindi quando noi non riceviamo un'ispirazione e non ci arriva un'intuizione che è dettata dalla nostra coscienza stupendore dove dobbiamo andare a cercare l'informazione per cercare di avere una comprensione rispetto a chi siamo e dove siamo e cosa sta succedendo nel mondo e gli eventi quotidiani. andiamo a guardare là fuori. e chi controlla là fuori? tutte le solite famiglie che sono i proprietari dei media che dettano come deve essere strutturato il sistema dell'istruzione in tutto il mondo che sono i proprietari del sistema delle banche, delle multinazionali oppure andiamo a guardare a un'altra apparente alternativa per cercare di avere un altro modo per comprendere chi siamo, dove siamo e perché siamo e noi chiamiamo questa roba religione e che cosa fa la religione? 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 a tutti